Minuto cinquantaduesimo, entra in campo Riccardo Ancione, segna e per il Due Torri è finale di Serie D. Stasi ha battuto 1-0, una prestazione superba, quella dei ragazzi di Alacqua, che dopo aver pareggiato 1-1 a Sant'Anastasia, hanno regalato ai propri tifosi la finale nazionale d'eccellenza. A Lenzo Vasi di Piraino, davanti un pubblico da grandi occasioni, è andata in scena una sfida maschi, equilibrata e combattutissima. Nel primo tempo il Due Torri sfiora il vantaggio con Venuti, che a tu per tu con il portiere spara alto. Ci prova anche l'Ostasia, ma Inferrere è attento e si oppone in due tempi. La partita si decide nella ripresa, quando al posto di un impalpabile esgro, Gielacqua butta nella mischia Ancione, che dopo una combinazione veloce con Raveduto, insacca alle spalle del portiere avversario. Sotto di un golo l'Ostasia reagisce, o ci vuole un miracolo di Inferrere per evitare il pari. Per il Due Torri le cose si complicano al 66esimo, quando l'arbitro d'Ambrogio di Frosinone espelle Carrello, ma la squadra non cede, ed anzi rischia il doppio vantaggio con Guido prima e Salmeri dopo. I minuti scorrono e l'Ostasia si butta nell'area avversaria, ma la difesa pirainese chiude senza fronzoli. I minuti di recupero sono al cardiopalma. Al 94esimo l'Ostasia pareggia nelle espulsioni con il rosso all'estremo difensore Liccardo, ma resta sotto nel punteggio. In finale va meritatamente un Due Torri, lucido e caparbio. Negli spalti esplode la festa e negli spogliatoi ancora di più. Per i Biancorossi si tratta della seconda finale in tre anni. Adesso c'è da superare l'ultimo ostacolo, il Torrecuso, prima di salire sul treno che porta definitivamente in Serie D.